La seconda settimana è una seconda settimana che inizia con il botto, cioè con la lecce magistralis del ministro Fioramont che ha iniziativa di ASVIS e noi siamo molto contenti di rinospitarlo come è stata a Caralà. Trovate il modo di diventare elaboratori di idee per praticare lo sviluppo sostenibile, non soltanto parlarne, ma praticarlo.